eccoci eccoci siamo live buonasera a tutte le future spose ma soprattutto alle spose innovative rivoluzionarie alternative fuori dagli schemi e che soprattutto non si accontentano dell'ordinario ma cercano lo straordinario siamo live sulla mia pagina facebook e questa sera parleremo di valori cioè quelli che sono i miei valori e quella che è la nostra missione e la nostra visione e vi do giusto qualche secondo per connettervi ecco qui già vedo che qualcuno si connette una diretta molto molto ma molto importante per me perché per me instaurare una comunicazione e soprattutto una relazione con le future spose è uno sicuramente degli aspetti fondamentali ecco vedo già che qualcuno si inizia a connettere condividiamo anche qui perfetto ci siamo e quindi questa sera parleremo di valori e saluto anche tutti coloro che vedranno poi questo video in un secondo momento di quella che la nostra missione è la nostra visione ti sembrerà strano ma solitamente nei miei appuntamenti nei miei video nelle mie mail io non parlo mai a primo impatto di caratteristiche di prezzi di pacchetti di servizi di cosa faccio e di come lo faccio ma parlo soprattutto di valori questo soprattutto e principalmente in appuntamento con gli sposi parlo di valori e quindi di una visione del mondo di una certa filosofia di un'opinione su una determinata problematica questo è molto importante per me ed il mio staff perché la sposa per me non è semplicemente una pianta che va irrigata a forza di messaggi pubblicitari e a forza di post commerciali su facebook fino all'acquisto ma per me la sposa è un essere umano come me che prova delle emozioni e che soprattutto ha dei valori che rappresentano i suoi punti fermi e che guidano le sue azioni questo è un aspetto per noi molto importante perché a differenza di molti fornitori che lì fuori cercano solo di vendere in modo sistematico e con l'offerta del secolo il proprio prodotto barra servizio senza ascoltare minimamente l'emozione che tu vorrai provare quel giorno senza ascoltare minimamente e capire minimamente il tipo di esperienza che tu vorrai vivere e il tipo di esperienza soprattutto che vorrai far vivere i tuoi ospiti per me ed il mio staff il tuo matrimonio non è semplicemente un numero non è semplicemente una data in più da inserire in agenda non è semplicemente uno tra tanti per noi il tuo matrimonio deve letteralmente essere cucito addosso a te perché ognuna di voi ha caratteri sogni passioni desideri e soprattutto valori diversi quindi la scelta dell'animazione deve in realtà rispecchiare il tuo stile ma soprattutto deve rispecchiare i tuoi valori questo è un aspetto per me fondamentale l'aspetto in assoluto principale qual è la nostra missione qual è la nostra visione io ci tengo tanto a sottolineare questo aspetto qui perché alla base di quello che facciamo e c'è una visione e c'è il perché che è molto forte il fuoco che anima le nostre battaglie e come se io il mio staff ogni giorno ci rimettessimo in gioco per vincere nuove battaglie e per raggiungere nuovi traguardi e il fuoco che anima appunto le nostre battaglie che compiamo per te e in realtà noi abbiamo tre traguardi importanti che vogliamo raggiungere il primo è quello di innovare il mondo dell'animazione per matrimoni portando appunto una nuova concezione un nuovo modo di concepire questo tipo di evento che fa degli ospiti non semplici spettatori come spesso accade ma partecipanti attivi cioè quindi per me è fondamentale che l'ospite partecipi attivamente in ogni momento clou del matrimonio e lo viva emozionalmente insieme agli sposi è fondamentale il secondo appunto connesso al primo è quello di far vivere a te e ad i tuoi ospiti un'esperienza travolgente ed emozionante che sia davvero unica e ripetibile e il terzo è quello di dare il giusto valore un grandissimo valore al tuo matrimonio io dico sempre alle mie spose che per noi per me e il mio staff il matrimonio è come se fosse quello di un figlio o di un fratello in cui abbiamo un unico obiettivo quello di garantire un risultato quello di soddisfare e superare le tue aspettative e soprattutto quello di superare le aspettative dei tuoi ospiti quello di far vivere ai tuoi ospiti un qualcosa di straordinario quello di far provare ai tuoi ospiti un qualcosa che non hanno mai provato in modo che poi possano dire quando tu consegnerai la bomboniera wow io non ho mai partecipato ad un matrimonio del genere wow il tuo matrimonio è stato il matrimonio più avanti a cui io abbia mai partecipato ecco questa è la nostra promessa che sentiamo forte e che anima ogni nostra battaglia per raggiungere nuovi obiettivi e nuovi traguardi proprio per questo io amo definirmi lo specialista dei matrimoni travolgenti perché per le spose che lo desiderano che vogliono un matrimonio davvero diverso da quelli fatti con lo stampino da quelli fatti copia in colla possono avere invece un matrimonio possano vivere e far proprio ospiti un'esperienza diversa memorabile alternativa e soprattutto travolgente quali sono i nostri valori di conosci sempre insomma miei e del mio staff i valori sono fondamentali per me sono la parte rappresentano la parte più importante che vado a condividere con i miei sposi perché io sono qui per aiutarti e sono qui soprattutto per aiutare le spose come te che hanno una mentalità innovativa e sono aperte a nuove soluzioni quali sono e quali saranno i valori che rappresenteranno i tuoi punti fermi allora il primo valore è sicuramente il rispetto perché alla base di qualsivoglia rapporto professionale ma anche umano ci deve essere il rispetto e quindi per me questo è in assoluto il valore più importante il secondo valore qual è è la libertà cioè il coraggio di liberarsi da tradizioni e regole che soffocano il terzo valore è l'innovazione perché per me nuovo e originale è meglio che tradizionale è sempre uguale poi un altro valore molto molto importante per noi è l'unicità e sì perché come ti ho detto poco fa ognuna di voi ha caratteri sogni emozioni e soprattutto dei valori diversi e quindi per me ed il mio staff non ci devono assolutamente essere nozze fotocopia non devono esistere nozze fatte con lo stampino standard perché ognuna di voi è a una personalità unica ha dei valori diversi e quindi la scelta dell'animazione così come qualsivoglia altra scelta deve assolutamente rispecchiare appunto i vostri valori un altro valore per noi molto importante è sicuramente la diversità e sì perché se cerchi un'animazione uguale a tutte le altre mi dispiace ma io non faccio per te la mia soluzione non fa per te un altro valore molto importante è la passione perché l'impegno che noi ci mettiamo per te per raggiungere gli obiettivi e per garantire il risultato per confermare la promessa e per superare le aspettative deriva da mente e soprattutto cuore all'unisono ecco questi sono i valori molto importanti che io vado a condividere con le coppie di sposi che vado a condividere in appuntamento ed è l'aspetto principale di cui io parlo prima di parlare di caratteristiche di pacchetti perché su facebook perché su matrimonio punto com perché vedo solo offerte vedo solo pacchetti nessuno nessuno parla di valori nessuno parla di emozioni ma e cara sposa tu il giorno del tuo matrimonio andrai a condividere con il tuo fornitore una visione quindi per me fondamentale essere allineato con la mia sposa avere una visione comune perché sarà la base per il successo del tuo matrimonio ed è fondamentale che la sposa sia ovviamente allineata a questi valori poi certo si parlerà anche di tutto il resto si parlerà di cosa faccio di come lo faccio però per me il perché lo faccio è secondo me l'aspetto fondamentale perché dietro quello che io faccio dietro quello che fa il mio staff c'è come avete appunto visto una visione una missione e quindi non è una semplice e classica musica per matrimoni ma è una vera promessa è la promessa di farti vivere un'esperienza travolgente ma anche emozionante diversa e soprattutto di farla vivere ai tuoi ospiti i tuoi ospiti devono dire il tuo matrimonio è stato diverso è stato unico è un qualcosa che io non ho mai visto è un'emozione un'esperienza che non ho mai vissuto ma mi rendo conto che solitamente poi sui social sui portali e parlano tutti della favola del sogno e io non amo parlare di questo ma amo parlare di valori amo condividere i miei valori amo instaurare una relazione con voi con le mie coppie di sposi perché quando scegliete l'animazione non scegli semplicemente un prodotto fatto di prezzi caratteristiche pacchetti ma scegli una soluzione scegli appunto una visione scegli una filosofia e quindi prima di approfondire il discorso economico è opportuno per me e il mio staff ascoltare prima l'emozione che vorrai vivere quel giorno come vorrai sentirti quel giorno per capire davvero se possiamo esserti d'aiuto se possiamo soddisfare le tue aspettative e soprattutto se possiamo superare le tue aspettative e soprattutto quelle dei tuoi ospiti ok questa sera insomma abbiamo fatto questa diretta per me di grande valore sui valori diretta per me la diretta in assoluto più importante e inoltre ti ricordo se sei alla ricerca dell'animazione e so so come ci si sente all'inizio perché comunque si è bombardate da tantissime informazioni ci sono tante paure che affliggono la tua testa la tua mente ansie come scegliere l'animazione quali sono i parametri da valutare la paura che la festa del tuo matrimonio possa rivelarsi un flop io parlo sempre di problematiche e non di favole di sogno perché ti assicuro che poi il giorno del tuo matrimonio se non si fa attenzione prima a come scegliere a cosa scegliere al perché scegliere il passo dal sogno all'incubo è molto breve quindi se vuoi capire come scegliere l'animazione che rispecchi le tue esigenze risparmiando tempo evitando errori anche se parti da zero e non sai minimamente da dove iniziare ti lascio qui sotto questa diretta il link per accedere al mio gruppo chiuso facebook dove troverai tantissimi video di grande valore tantissimi post che ti aiuteranno in questa scelta e soprattutto ti aiuteranno rappresenteranno una guida per orientarti in questo percorso molto 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 tortuoso e soprattutto potrai accedere alla mia guida gratuita dove scoprirai appunto quali sono i parametri da valutare nella scelta dell'animazione ma dove scoprirai soprattutto a cosa fare attenzione i problemi che devi assolutamente evitare in questa scelta perché nessuno come ripeto nei miei video lì fuori è disposto a dirti in realtà come stanno le cose tutti parlano della favola e del sogno nessuno parla delle problematiche nessuno vuole aiutarti spiegarti prenderti per mano guidarti per farti capire a cosa devi fare attenzione perché la scelta del professionista sbagliato potrebbe rovinare la festa del tuo matrimonio quali sono i parametri da valutare e che ovviamente tu essendo all'inizio come tantissime spose avete a che fare con un mondo nuovo e acquistate dei servizi che non avete mai acquistato è fondamentale capire conoscere e trovare poi la soluzione definitiva per risolvere tutte queste problematiche ma soprattutto una soluzione che possa garantirvi un risultato perché tutti tutti sono bravi a parole a garantire un risultato ma poi confermarlo quel giorno e superare le vostre aspettative soprattutto quelle dei vostri ospiti è una questione un po più complessa leggermente più complessa e quindi è importante per voi arrivare ad una scelta sicura ad una scelta consapevole che vi garantisca di vivere questo giorno davvero unico senza ansie senza paure senza stress di avere letteralmente una guida che vi accompagni non solo il giorno del matrimonio ma anche prima che vi consigli che vi indichi la strada migliore da percorrere una strada sicura e che vi faccia fare questo viaggio emozionante divertente ma soprattutto sicuro e soprattutto con cui scopo di questa diretta andrete a condividere dei valori i valori che sono alla base del perché del perché io ed il mio staff facciamo tutto questo e garantiamo questo tipo di risultato e quindi una visione comune sarà la base e sarà determinante per evitare il flop della festa del tuo matrimonio per far sì che tutti parlino anche a distanza di anni del tuo matrimonio e soprattutto per far sì che il tuo matrimonio non sia il classico matrimonio fatto con lo stampino uguale a tutti gli altri ma sia un matrimonio travolgente innovativo alternativo fuori dagli schemi che faccia appunto vivere ai tuoi ospiti un'esperienza unica diversa e memorabile ti aspetto alla prossima diretta ciao da francesco barattucci sciomè grazie a tutti